amici e amiche salve a tutti e ben ritrovati sul canale di che te lo dico a fare l'argomento che oggi andiamo a trattare è la salubrità alimentare qui sul mio tavolo per l'appunto abbiamo una classica padella che meno male tutti quanti utilizziamo in casa in realtà questa è una padella per uso professionale questa l'ho comprata alla metro che in spagna si chiama macro e qui dietro vi faccio vedere si intravede sotto le bruciature anche la marca la marca sele select oreca oreca scritto con l'acca indica hotel restaurant e caffetteria allora per essere una linea professionale si suppone che sia una una padella un utensile fatto per resistere a uno stress di lavoro abbastanza sostenuto fatto sta che io la posseggo da circa un anno e mezzo forse due anni non di più ebbene ho fatto un uso puramente casalingo quindi ci faccio qualche fritturina ci faccio a volte ci cucino la salsa voglio dire la uso si tutti i giorni ma non sto lì a fare più usi quotidiani quindi una volta che la uso un giorno poi diciamo che sostanzialmente la lavo e la metto da parte come potete vedere ve l'avvicino a favore di camera per farvi rendere maggiormente conto quello che è la patina antiaderente che dovrebbe essere posta all'interno si sta via via perdendo ci sono dei piccoli graffi nonostante io tenda a non utilizzare per muovere o girare il contenuto dei dei miei cucinati nessun utensile di metallo quindi non utilizzo forchette cucchiai che possano graffiare la patina antiaderente ciò nonostante diciamo che si vanno creando delle piccole scalfitture dei piccoli graffi che evidentemente denotano che la la patina la vernice antiaderente sta saltando dove è finita beh in realtà sembra proprio che questa vernice antiaderente io me la sia mangiata e visto che si tratta comunque di una sostanza altamente cancerogena beh c'è da correre ripari come innanzitutto cercando di evitare di utilizzare di seguire utilizzare questo tipo di utensili perché diciamo che una volta scoperto l'inghippo beh forse sarà il caso di iniziare a prendere qualche provvedimento serio e pensare maggiormente a proteggersi quindi in realtà questa questo saltare della verniciatura è qualcosa che ho riscontrato accadere in praticamente tutte le padelle siffatte quindi tutte quelle che hanno questa patina antiaderente a breve lungo andare si va via via opacizzando si va consumando letteralmente e in questo devo dire che perde anche parte del potere antiaderente proprio perché l'antiaderenza è assolutamente perfetta per così dire quando la padella è nuova ma nel momento in cui si va utilizzando quindi si va consumando si va levigando ecco perché proprio si tratta di una levigatura man mano che si usa i cibi tendono sempre maggiormente ad attaccarsi in realtà questo tipo di utensili il maggior premio premio scusate pregio di antiaderenza ce l'hanno per via della loro costituzione abbastanza pesante massiccia perché i cibi molte volte si si attaccano si bruciano semplicemente perché padelle pentole economiche hanno una base una struttura una conformazione molto sottile i produttori usano poco metallo e quindi ad essere poco sottile la fiamma che sta di sotto va a concentrare il fuoco in determinati punti e quindi avremo dei punti super caldi e il resto della padella o della pentola che non è calda come quei punti e quindi il cibo che va a contatto lì tende a bruciarsi in questo caso ad avere uno spessore considerabilmente corretto del della padella diciamo che il calore che arriva da sotto si va uniformando e quindi tende meno a bruciarsi e ad attaccarsi il cibo che andiamo a scaldare a cucinare al suo interno ora torniamo alla nostra benedetta padella in questo caso proprio per evitare se proprio abbiamo necessità di utilizzare questo tipo di attrezzo come possiamo diminuire la possibilità di andare a nutrirci anche con questa vernice dicevo sicuramente evitando di maneggiare il contenuto con posate di metallo d'acciaio dopodiché anche la pulizia la pulizia di questo tipo di strumento deve essere fatto con una spugnetta ma passandola dalla parte più più delicata quindi molte spugnette di pulizia per per la cucina hanno il doppio strato uno più più delicato e uno molto più abrasivo ecco se si andate con quello più abrasivo cercando di rimuovere magari anche qualche cosina bruciacchiata andate sicuramente a levigare a raschiare anche parte della vernice che nella nella cottura successiva libera ancora più molecole nel cibo che vi andrete a mangiare in questo caso se avete bruciacchiato qualcosa il consiglio è semplicemente di lasciare la padella con acqua a lasciarla riposare anche un paio d'ore poi l'acqua stessa sarà quella che andrà a fare staccare pezzettini carboniosi attaccati e quindi insomma poi li potrete rimuovere con molta più facilità senza stare lì a raschiare come dei forsennati o delle forsennate bene quindi tenuto conto del di non utilizzare la parte più abrasiva della della spugnetta per mescolare per rigirare durante la cottura io vi consiglio l'utilizzo di posate di legno quindi posate di legno che sì magari si possono anche bruciacchiare a volte capita ma il più delle volte si bruciacchiano perché uno li lascia così appoggiati e il fuoco stesso vedete qui tende ad abbrusturirgli un po in realtà il legno non dovrebbe essere così nocivo come quello che può essere una vernice di riporto antiaderente probabilmente la cura non sarà peggiore del male e quindi un poco possiamo pensare di salvarci in ogni caso preso atto che sarebbe meglio non utilizzare completamente questo tipo di prodotto come supplire a quello che ci verrà poi a mancare beh facendo attenzione giocando sulle temperature comprando padelle di buona qualità quindi con uno spessore consistente per lo meno insomma 5 millimetri di spessore lì potremmo garantirci cotture decenti ed evitare che il calore vada a concentrarsi come dicevo poc'anzi in determinati punti favorendo l'attaccarsi dei dei cibi questo è ora io questa qua ovviamente la manderò immediatamente in pensione me ne sono reso conto probabilmente anche un pochino tardi dello stato in cui era era arrivata e devo dire che non comprerò più padelle di questo tipo con la verniciatura antiaderente in commercio si sente parlare anche di padelle con il riporto in pietra con la base di cottura che va a contatto con i cibi in pietra occhio su quel discorso sulla pietra documentatevi molto bene perché mi è giunto all'orecchio che anche lì non si tratta di vera pietra ma semplicemente di una vernice di riporto che va a simulare quello che visibilmente che visibilmente potrebbe sembrare pietra quindi prima di andare a fare un acquisto in tal senso e spendere altri soldini confidando nella bontà nella qualità di un prodotto documentatevi bene se state vedendo sto video siete su internet quindi andate a cercare qualche informazione pertinente in più la parte posteriore beh la parte posteriore chiaramente si va a bruciacchiare anche perché io l'anno scorso questa padella con una spazzola metallica e il trapano l'avevo lucidata completamente l'avevo portata tutta quanta a metallo così sotto e di alluminio poi ovviamente cucinando va traboccando un po di olio un po di di sostanza di che si sta cucinando e si va abbrustolendo qui intorno questo purtroppo è normale io non ci sto proprio dietro dietro a pulire il culetto quindi insomma alla fine è così che si riduce ma è quello che ci interessa maggiormente è qui quindi là dove mangiamo e ciò che comunque dobbiamo attenzionare maggiormente bene detto questo io vi rimando al prossimo video che verrà spero che questo intervento vi torni comunque utile vi faccia anche pensare a dare un'occhiata a ciò che avete nelle vostre cucine dispense e magari insomma giudicherete con altro con un occhio magari più critico ciò che state utilizzando che magari potrebbe anche attaccare aggredire il vostro stato di salute ok amici e amiche con questo è tutto io vi saluto alla prossima ciao